Noi siamo quelli dell'eccomi, dell'eccoci come dice l'arcivescovo. E davvero quest'anno la veglia missionaria diocesana, cui da tre anni è unito anche il rito dell'aredizio simboli con la consegna della regola di vita da parte dei 19 anni, è stato così. Con l'inizio, attraverso un momento conviviale, un cocktail realizzato con la presenza del bescovo Mario presso la chiesa di San Bernardino alle ossa, dove i giovani si sono ritrovati con i missionari partenti, sette per questo 2024 e con coloro 26 che arrivano nella nostra diocesi per motivi di studio, di salute o anche pastorali. Poi la breve processione verso il Duomo, con il portale centrale aperto per l'occasione che è stato attraversato dai 3000 che hanno gremito la cattedrale. La veglia, animata come sempre al meglio dai cori Shekinah e Delichia, si è aperta con la chiamata per nome, con la provenienza e la destinazione in diocesi, dei 19 sacerdoti e le 9 suore che sono tra noi. Particolarmente suggestivo anche il gesto con cui i giovani di origine africana, asiatica e sudamericana hanno allestito un bacchetto etnico ai piedi dell'altare maggiore, come segno della festa di nozze, secondo il brano di Matteo 22, da cui è tratta l'espressione che ha dato il titolo all'intera veglia e che ha ispirato la riflessione di Monsignor del Pini. Andate e invitate al banchetto tutti. Siamo qui per dire che abbiamo visto il desiderio di gioia che abita nel cuore della gente di oggi. Noi abbiamo visto le lacrime che aspettano consolazione, la fame che aspetta il pane, le distruzioni, le ferite, la morte, tutto il corteo terribile delle guerre che aspetta, invoca, spera la pace. Noi siamo qui per dire che questa umanità merita il nostro rispetto, la nostra stima, perché sta a cuore a Dio. Dio, infatti, ha mandato il suo figlio unigenito, non per condannare, ma per salvare il mondo. Noi siamo qui per dire che siamo ispirati da un sincero, intelligente, intenso senso di fraternità e perciò vogliamo essere i servi del Signore per invitare tutti, tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, quelle che incontriamo ogni giorno qui o in qualunque parte del mondo. Dopo l'Omelia, il momento intenso dell'adorazione eucaristica nell'oscurità che cala in Duomo, con un silenzio che accompagna anche l'inizio della consegna, nelle mani dell'Arcivescovo e dei Vescovi, della regola di vita da parte di 250 giovani, per la maggior parte 19 anni, provenienti da ogni zona pastorale della Chiesa Ambrosiana. Non manca una breve testimonianza di Don Davide Fiori, in partenza per Cuba, sacerdote Fidei Donum. E questo allora è una speranza e un augurio, che attraverso di me, che attraverso di noi, molti volti e situazioni si incontrino, molte storie si incrocino, molte mani si stringano, anche tra persone e popoli lontani. Incrociare le vite nel segno della croce di Gesù. Poi il momento culminante della veglia, con la benedizione e la consegna del croce fisso ai sette partenti. Don Fiori, appunto, quattro religiose, che andranno rispettivamente in Camerun, Brasile e Vietnam, e due laici, destinati l'uno in Bolivia e l'altra in Camerun. Infine l'invocazione dello spirito dei missionari sui giovani e di questi ultimi sui partenti accolti e l'uscita, ancora tutti insieme, sul Sagrato.